Sono molto felice di essere stato al Cinecomio, che è una realtà che seguo da diverso tempo e io spero di tornarci presto anche con il mio prossimo lavoro. Sono felice soprattutto che si riescano a fare momenti di questo tipo ancora, nelle città come Correggio, che è una città bellissima, molto attenta alla cultura e mi auguro che poi in Italia ci siano, possano esistere ancora cose di questo tipo, momenti di cinema, se così si possa ancora tentare un tipo di cinema diverso, che non è quello solito della grande distribuzione, che si possa tentare via alternative e questo mi sembra uno dei luoghi più giusti, anche più opportuni per presentare film di questo tipo e il mio film Ulidi è in una cornice assolutamente adeguata e insomma ce ne fossero di realtà come Cinecomio.